ciao a tutti oggi prepareremo i tortini di salmone gotti a vapore il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa ingredienti sono acqua prezzemolo uova pepe salmone affumicato panna da cucina e ricotta diamo il via la ricetta iniziamo prendendo dei pirottini e ungendoli con il nostro staccante per teglie che ci serviranno successivamente per la cottura andiamo a mettere nel boccale il salmone e il prezzemolo e facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7 finiamo sul fondo questo è il composto che abbiamo ottenuto a quale adesso andremo ad aggiungere le uova il pepe la ricotta e la panna da cucina facciamo amalgamare per 15 secondi a velocità 5 riuniamo sul fondo il nostro composto assaggiamolo ed eventualmente aggiustiamolo di sale dopodiché lo andremo a trasferire all'interno dei nostri pirottini riempendoli per non più di tre quarti senza lavare il boccale adesso andiamo a riempirlo con l'acqua ci servirà per la cottura dei nostri tortini chiudiamo col coperchio senza il misurino andiamo a prendere il baroma dove abbiamo posizionato i nostri tortini da cuocere e abbiamo anche il bassoio del baroma dove abbiamo posizionato altri tortini andiamo a posizionarlo sopra chiudiamo con il coperchio del baroma e andiamo a cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 i nostri tortini sono pronti lasciamoli raffreddare del tutto prima di uscirli dagli stampini ed impiattare una volta che i tortini si sono raffreddati andiamo a impiattare tortino al salmone grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti